Reputazione, Nexta, aziende, sport, pallavolo, una grande campionessa come te, come si pone da questo punto di vista? La reputazione è un po' tutta la fotografia di chi sei e il tuo percorso. Oggi abbiamo fatto un evento straordinario dove ci siamo davvero passati la palla in vari ambiti, in vari campi, ma dove il concetto di essere sempre coerenti con quello che facciamo è avere una mentalità vincente. Quindi il fatto di sapere andare avanti anche in momenti di difficoltà fanno di noi delle persone che sanno lottare e sono resilienti e hanno quella coerenza che porta poi a quello che siamo. Dal punto di vista sportivo hai ottenuto grandi risultati. Dal punto di vista imprenditoriale, come ti poni? Nello stesso modo. Io ho smesso molto giovane, avevo poco più di 30 anni e avrei potuto continuare la carriera. Però mi piaceva molto il mondo della comunicazione, delle risorse umane, delle persone, perché era il mio mondo. Perché io arrivo da un mondo fatto di squadre, di persone, di team, di spogliatoi semplici, più difficili, più complicati. Però sono sempre i nostri spogliatoi. E quindi entrare nelle dinamiche aziendali non è stato poi così complicato, perché sempre di team e di aziende si parla. Quindi per me in modo molto naturale e sempre con tanta energia. Quella non mi manca mai, nonostante ora abbia anche due bambini. E un marito. Grazie. Grazie. Grazie.